avete sentito dalla lettura della Locandina di Mariella. Lo facciamo attraverso il dialogo con il nostro artista Bruno Zoppetti, che conosce molto bene queste donne perché di loro ha subito il fascino non solo della loro arte, della loro tecnica, ma anche e soprattutto della loro vita. E quindi vorrei proprio incominciare da Bruno Zoppetti. Quindi cenni biografici necessari per chi non lo conosce e per entrare nel vivo della serata. Classe 1961, bergamasco di origine, frequenta il liceo artistico e si iscrive all'Accademia delle Belle Arti di Brera di Milano nel 1979. Dopo qualche anno vissuto a Milano decide di concludere l'Accademia tornando nella provincia e incomincia quindi il vortice delle supplenze nella scuola. E quindi Zoppetti, da studente lavoratore, coltiva costantemente la pittura, non solo ovviamente come esercizio e puro esercizio accademico, ma anche e soprattutto come aspirazione di vita e qualche volta anche come rifugio. Ovviamente dove trovare respiro tra studio e lavoro. La sua prima personale è del 1984 alla Galleria Alportico di Gardone Riviera. Dico la prima personale, la prima di una lunga, lunghissima serie di personali, di mostre, di collettive, di esposizioni. Per me è stato davvero difficile dover sintetizzare la biografia di Zoppetti proprio perché la produzione è, credetemi, immensa. In quegli anni a Milano, siamo negli anni del 1984-85, vengono esposte alla permanente alcune sue opere. E attenzione, questo è un momento importante, un passaggio da ricordare perché le opere Zoppetti in questo contesto vengono viste da storici dell'arte, critici dell'arte, importanti, famosi, e non solo storici dell'arte ma anche collezionisti. Una di queste opere sarà infatti pretesto di una collaborazione importante con un collezionista importante, ma ve lo racconto dopo. Le tele dell'esordio sono l'espressione del mondo figurativo di Zoppetti. Si tratta di disegni dal vero, opere descrittive, sono modelle che lui ritrae. Ecco, quindi andiamo un pochino avanti, poi si vede anche il ritratto di Cinzia e come vedete si tratta di non solo disegni che rappresentano una tecnica sapiente dal punto di vista grafico, ma anche disegni che rappresentano una forte sensibilità dei personaggi ritratti. Quindi, Mariella, se facciamo vedere anche le altre, così andiamo anche... Ecco, esatto, stavo parlando proprio di queste donne ritratte e questo è un suo autoritratto. In questi periodi di arte figurativa, però, si affacciano i primi tentativi di trasgressione dei canoni estetici. Infatti, se andiamo avanti, vediamo Susanna e i vecchioni, ci rendiamo conto che, eccola, questa è una tela assolutamente che trasgredisce i canoni accademici ed estetici della semplice figura e l'ho associata a un'opera di Sironi, artista novecentesco, al quale Gioppetti guarda e dal quale prende poi pretesto e spunto per affidarsi definitivamente al mondo dell'informale che da lì a poco, diciamo, prenderà il posto nel suo atelier. Nel 1990, anno importante, perché l'artista decide di lasciare il vorticoso mondo delle supplenze scolastiche e decide di trasferirsi a Milano, nella metropoli per eccellenza, e di intraprendere la via dell'arte. Così mi piace chiamare la sfida che ogni buon artista si prepara a compiere ad un certo punto nella sua vita, se effettivamente crede nell'arte. E così è stato per Gioppetti, che appunto, in aprile del 1990, si trova ad essere protagonista, pensate, di una prima personale alla famosa galleria appunto delle Ore di Milano. e sentite che cosa scrive di lui un grande, grandissimo storico dell'arte di quel periodo, Mario De Micheli. De Micheli dice ecco un giovane pittore che ha già qualcosa di serio da far vedere. La sua arte è capace di offrire esaltazioni profonde e profonde inquietudini. Ora, due cose, devo dire, due curiosità, due cose importanti. Una è questa, la Galleria delle Ore a Milano in quegli anni è un luogo di forte visibilità e di pregio per gli artisti in erba. Tant'è che lo stesso Zoppetti ci dice che quando da studente passava davanti alla Galleria delle Ore, la guardava sognante, desideroso di arrivarci prima o poi, proprio perché era un luogo importante. E la seconda cosa, mi permettete di spendere due parole velocissime per questo critico d'arte di Micheli che si è occupato delle avanguardie artistiche per capire l'argomento e che qualcuno magari ricorderà proprio perché è stato il critico d'arte ufficiale del quotidiano, dell'unità per tantissimi anni, genovese d'origine, insegnante al Politecnico, ma la cosa che mi interessa dirvi è proprio questa. La sua ricerca è una ricerca attenta ai valori dell'uomo, della sua lotta contro la brutalità della storia dove aveva partecipato anche attivamente alla resistenza. Questo ci fa capire ancora di più il peso delle parole di De Micheli rivolte all'arte di Zoppetti. Quindi c'è una sintonia immediata e profonda. Ecco, se noi poi vediamo le opere che vengono esposte in questo periodo, Mariella, ad esempio, in Rombo e Razza, tanto per farvi capire com'è l'informale di Zoppetti che approda appunto la galleria tanto ambita dagli artisti, lo vediamo che è un olio di tè su tela molto ricco di suggestioni dove Zoppetti maltratta, mi piace usare questo termine, permettimi Bruno, il colore, lo stende con poderose pennellate, come vedete, e letteralmente lo usa proprio per creare delle sovrapposizioni a volte materiche e dare questo effetto di tenebre e luce, bagliori e oscurità, un'esplosione cromatica molto molto importante. Sempre alla Galleria delle Ore ci saranno altre personali e altre collettive, una collettiva presentata dalla storica dell'arte marina d'Estasi, una personale presentata da Franco Loi, poeta, scrittore e amico di Zoppetti. In questo periodo i soggetti fondamentali delle sue opere sono gli oggetti e sono i protagonisti delle tele esposte in questi anni a Milano, anni di grande successo dell'artista. Sentite, Franco Loi dice imparare a vedere significa ritrovare l'incanto dell'esperienza. Mi piaceva questa citazione, questo piccolo inciso proprio perché l'esperienza come vedete in queste tele che scorrono in questi quadri ha proprio il pregio di fare e di provare, di sperimentare e ha il pregio dell'esserci in tutte le sue non-forme. È proprio l'obiettivo dell'artista quello di arrivare alle non-forme per lasciare segni densi di colore e ad esempio se andiamo avanti Mariella perfetto, guardate tanto per capirci esattamente volevo proprio arrivare qui a quest'opera Le bagnanti e se poi vai ancora un pochino avanti abbiamo le tre grazie esatto guardate in questo periodo guarda l'artista guarda a un altro grande artista che è De Kooning con la sua serie dedicate alle donne woman e lo stesso impasto materico la stessa disintegrazione delle forme la ritroviamo in Zoppetti ecco l'informale continua poi e assolve i desideri espressivi dell'artista e piace anche a Mario Matashi allora momento molto importante perché Mario Matashi chi è classe 1931 compie quest'anno gli 85 anni enologo collezionista e gallerista ticinese proprietario di alcuni spazi espositivi e di una ricchissima galleria d'arte a Tenero a Lugano ecco vediamo il catalogo proprio dedicato all'esposizione di Zoppetti questa galleria è divenuta molto famosa dovete sapere una cosa importante approdare alla Matashi rappresentava e rappresenta tutt'oggi un punto d'arrivo di riconoscimento pubblico di grande grandissimo prestigio e pensate che cosa è successo che Mario Matashi nel 94 acquista ben 90 pezzi di Zoppetti tra tele tavole disegni carte e li espone alla galleria Tenero di Lugano su tre piani quindi tre piani espositivi dedicati al nostro artista e questo è un grande momento di successo se vai avanti Mariella vediamo che tipo di opere ha acquistato questa è una bellissima natura morta poi c'è il pasto del cannibale che rende molto bene l'idea dell'informale Zoppettiano è stato un vero e proprio amore a prima vista quello di Mario Matashi con Zoppetti sapete dove l'ha incontrato l'ha incontrato alla galleria alla permanente di Milano vi ho detto prima tenete a mente 1984 85 Zoppetti è la permanente Matashi lo nota e lo tiene doppio per dieci anni di fila fino a quando acquista questi 90 pezzi e diventa il suo più grande collezionista il successo continua nel 95 di nuovo a Milano alla galleria delle ore con una sua terza personale questa volta però dedicata alla tecnica dell'incisione anche la tecnica dell'incisione con la pittura è una tecnica importante nel percorso artistico di Zoppetti ecco se andiamo avanti possiamo vederne un paio di esempi guardate di che cosa si tratta la tecnica dell'incisione è una tecnica molto meticolosa l'inchiostro penetra nei solchi non lascia spazio a elementi decorativi in eccesso la figura però è essenziale ed è elegante sinuosa ecco guardate se ritorniamo vai pure avanti Mariella essenziale elegante sinuosa proprio come le opere di una grande donna che incomincio ad introdurvi solo il nome introduco perché poi sarà Bruno a parlarvene Camille Clodelle una scultura da qui proprio vedete la linea sinuosa della scultura che abbraccia la linea sinuosa dell'incisione di Zoppetti tanto per capire già da ora quanto questa donna artista è entrata a far parte del percorso artistico stilistico del nostro artista Zoppetti poi lo troviamo a Chiasso dove espone alla galleria il mosaico con una quarantina di opere dedicate proprio all'esposizione di Zoppetti ne vedete un assaggio semplicemente e poi arriviamo a un momento importante siamo nel 1999 e anche l'anno questo di una grandissima di una profondissima crisi che coinvolge Bruno e come succede almeno una volta nella vita di un grande artista così è avvenuto anche per Zoppetti una serie di sfortunati eventi gli impediscono di continuare a cavalcare l'onda del successo che con Matashi era e sembrava davvero vicina e come spesso accade il crollo professionale si unisce anche quello sentimentale e di colpo si affaccia la solitudine il silenzio la chiusura l'arte si fa dura introspezione Zoppetti si isola nel suo studio se la prende con le tele con i pennelli con le immagini crea distrugge costruisce disfa ama e odia spudoratamente la sua arte ma sarà proprio all'interno del suo piccolo atelier di provincia dove ritroverà respiro salvezza e rinascita e permettetemi ancora una volta l'arte come cura davvero di tutti i mali e ce lo insegna la letteratura della storia dell'arte da Van Gogh scusate il cito il più banale ovviamente perdonatemi da Van Gogh ma è il più conosciuto alle donne libere e forti che questa sera Zoppetti ci racconterà vado avanti molto velocemente faccio fatica a eliminare tanti percorsi perché nel 2000 poi Zoppetti vince il concorso scolastico e successivamente riprende la sua catena di discipline pittoriche nei vari licei di Milano ritrova consapevolezza artistica attraverso il fortissimo desiderio di una grande partecipazione sociale il desiderio di partecipazione sociale da qui la scelta di essere presente negli ambienti non convenzionali e quindi i luoghi comuni della gente comune decide di rompere quindi questa rottura con le gallerie i musei gli spazi espositivi d'elite e tutto ciò lo riporta stilisticamente parlando a un ritorno all'ordine lo vedete ritorna alla figura ritorna alla figura dalla quale era partito vi ricordate le modelle dipinti dal vero riprende confidenza con il disegno con la musica che è sempre sempre stata fondamentale nella sua vita e riprende quindi i lavori da questo momento in poi saranno caratterizzati tutti da una indagine da una forte indagine fisiognomica ed espressiva sono tanti veramente tanti gli interventi le esposizioni le collaborazioni che dal 2000 in poi caratterizzano il percorso artistico di Zoppetti ho veramente quasi finito e infatti vi voglio dire uno tra ho fatto fatica a selezionarli ovviamente ma velocemente nel 2015 espone il politico dedicato a Joe Hill minatore sindacalista e compositore svedese lo espone al circolo dei lavoratori di Isia e io tra l'altro se non sbaglio la presentazione di Franzinelli e Milani del circolo culturale Ghislandi nello stesso anno avviene una collaborazione importante con l'amico Boris Savoldelli al barbae di Pisogne espone poi una serie di quadri a tema al museo Le Fudine di Malegno nel 2016 in occasione della festa del lavoratore su invito di Pierluigi Milani e del circolo culturale Ghislandi ecco la Lucandina un posto con grandissimo fascino tra l'altro e nel 2017 per concludere Zoppetti è al Musil di Cedegolo con una mostra davvero di grandi capolavori dedicati ai minatori alla fatica delle mani alle corde di chitarre che cantano parole di lotta e di dignità questa mostra si intitola delle mani i calli siamo nel 2017 vi consiglio vivamente di sfogliare il catalogo vedete la copertina del catalogo nell'immagine perché è ben fatto e c'è anche un buon repertorio iconografico e quindi si può capire bene di che cosa si tratta quella mostra eccezionale a mio avviso e tra l'altro c'è anche uno scritto un articolo molto molto interessante di Mimmo Franzinelli che ovviamente non necessita di presentazioni le opere di Cedegolo ho veramente quasi finito sono suggestive sono dedicate a questi sguardi a questi corpi al movimento soffocato e soffocante che Zuppetti conferisce ai corpi all'anonimato dei volti che in questo contesto è necessario per far risaltare lo sguardo compassionevole dei minatori si percepisce davvero la fatica è palpabile è proprio si può toccare con mano e naturalmente possiamo pure andare avanti Mariella vi anticipo guardate quanto abbiamo a sinistra ancora un'opera di Zuppetti a destra un'opera di Kete Colvitz un'altra grande artista che segnerà e segna molto e segna il percorso e lo stile di Zuppetti guardate quanto di Kete Colvitz c'è nella struttura dei corpi e degli spazi di Zuppetti infine siamo nel 2020 anno incredibile Zuppetti è presente alla cascina Clara Bella di Iseo ed è presente con Fragili Fragili è un complesso lavoro che Bruno ha ideato e realizzato per Clara Bella si tratta di una serie di ritratti decisamente a carattere psicologico di nomi più o meno famosi sono musicisti statunitensi inglesi italiani eccetera che hanno tutti in comune un grande talento e soprattutto una vita in lotta contro i disturbi emotivi di varia natura la mostra è stata ovviamente più volte sospesa a causa dei vari impedimenti del caso ma merita di essere conosciuta e per questo passo la parola alla curatrice Roberta Martinelli che ha curato questa mostra a Clara Bella benvenuta Roberta grazie mille per la tua partecipazione e davvero raccontaci tu qualcosa di questo progetto mostra fragili buonasera a tutti ben trovati prima voglio cominciare il mio intervento in maniera forse inconsueta nel senso che di solito i ringraziamenti si fanno alla fine ma per parlare di fragili devo proprio partire dal dire grazie al maestro Bruno Zuppetti perché fragili non ci sarebbe stato senza la sua innanzitutto la sua disponibilità e la sua arte ma soprattutto senza la sua grandissima sensibilità quindi lo ringrazio lo ringrazio in questa occasione come lo sto facendo un po' in questi mesi ecco che ci stiamo sentendo Fragili è un progetto è una mostra nata l'estate scorsa conoscevamo già le opere del maestro Zuppetti e le apprezzavamo tantissimo quindi gli abbiamo rivolto l'invito di poter ospitare una sua mostra ma non solo ha accettato ecco questo invito ma ha voluto creare una mostra proprio dedicata al progetto di Cascina Clarabella per chi non conosce Cascina Clarabella è un consorzio di cooperative sociali che crea opportunità di lavoro per persone con fragilità psichiche di qui è il progetto Fragili che è un progetto unico nel senso che come illustrava prima Magda si tratta di ritratti di artisti del passato tutti appartenenti al mondo della musica che hanno unito a un grandissimo talento delle fragilità personali che si sono tradotte in dipendenza piuttosto che in depressioni piuttosto che in altri tipi di di sofferenze ecco la mostra è stata ha avuto il patrocinio del comune di Iseo e anche della Asta Tranciacorta e è stata presentata in occasione della giornata mondiale della salute mentale il 10 ottobre scorso questo perché il senso della mostra era un po' duplice ecco era quello di dare un messaggio che la fragilità psichica può anche coesistere con un talento o più talenti e la mostra lo dimostra con tutte queste esperienze di artisti immensi e poi c'era anche il senso di sensibilizzare sul tema delle fragilità psichiche che purtroppo è un tema assolutamente attuale con quello che sta succedendo ecco gli artisti che sono ritratti meritano davvero di essere di essere visti perché sono veramente quadri molto belli ci sono artisti molto conosciuti cito fra tutti Amy Winehouse che forse è quella che tutti conoscono che è una delle musiciste più recenti ecco ma ci sono anche Billy Evans Johnny Cash Daniel Johnson grandissimo Daniel Johnson e c'è anche Billy Holiday che è proprio l'icona della mostra e quella che probabilmente l'artista che poi conoscerete anche stasera ecco durante il proseguo della conferenza la mostra continua è stata funestata purtroppo da tutte le chiusure esatto alla necessità di tutelare le persone durante questa terribile pandemia però grazie al maestro Zopetti che ha concesso la possibilità di prorogare la mostra e la mostra sarà visitabile anche nelle prossime settimane fino alla fine dell'estate fino all'inizio dell'estate scusate ah bene 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 quindi questa è una bella notizia Roberta quindi c'è possibilità di vedere dal vivo i lavori di Zopetti a Clara Bella sì assolutamente perfetto buonasera scusate se mi intrometto buonasera a tutti Roberta se mi chiami un'altra volta maestro non ti rivolgo più la parola prego continuate pure sono anche curatrice della mostra devo esatto hai ragione Roberta sono assolutamente d'accordo con te ti ringrazio grazie mille Roberta per questa presentazione grazie a voi veramente grazie di cuore speriamo di poterli vedere quindi dal vivo questi capolavori di Bruno fragili come ci hai detto tu Roberta è sicuramente e soprattutto una mostra quindi di sguardi questi sguardi che abbattono le icone dei grandi nomi e che entrano nel mondo interiore quindi della persona della persona ritratta e che raccontano storie di donne di uomini ancora una volta di donne donne libere come Augusta Sauvage Louise Jones protagoniste dell'Harlem Renaissance o la storia Bruno di una grande signora signora del blues per eccellenza Billie Holiday che con la sua lotta è diventata davvero una protagonista del tuo immaginario sonoro giusto Bruno? va bene certo comincio io allora Magda parto da qui certo vai esattamente ti ringrazio Magda hai fatto un lavoro enorme così attento sostanzioso ma si vede che hai fatto e anche molto accurato insomma grazie buonasera a tutti ecco sì partiamo da Billie Holiday però prima di di affrontare di riconoscere le vite l'opera di queste donne volevo fare una piccola premessa riguardo il fatto che la figura femminile nell'arte è veramente crea veramente un paradosso mi spiego la donna fin dall'inizio è sempre stata rappresentata anzi è il soggetto più rappresentato nella storia dell'arte e addirittura dal neolitico con le idee madri che avevano chiaramente una valenza così tribale religiosa fino ai giorni nostri ecco il paradosso è questo da immagine così studiata dipinta scolpita la donna artista invece non ha mai avuto spazi non ha mai avuto possibilità il mondo dell'arte è stato sempre fortemente maschilista adesso io focalizzerò il mio interesse e vi parlerò della fine dell'ottocento e la prima metà del novecento e se riesco facendo anche qualche accenno a donne artiste contemporanee ma se noi dovessimo considerare le donne artiste dico dal medioevo dico dal medioevo perché fino ad allora gli artisti erano considerati artigiani quindi manco si firmavano ma ma poi le donne saranno sì e no poche una decina forse anche meno da sofonisma a nuissola a artesimisia gentileschi o la carriera insomma veramente pochissime questo stato di cose lo ritroviamo ancora nell'ottocento parlo dell'ottocento perché poi la futura artista di cui parlo è proprio Camille Crudel ma quello che mi interessa e qui c'entra anche Billie Holiday è considerare il fatto di come agivano nel loro mondo nella loro società come si potevano muovere e come hanno reagito Billie Holiday come tutte le artiste di cui parlerò non so se è una coincidenza ha sempre avuto questo grande talento fin da piccola qui c'è una fotografia di lei bambina a due anni che poi ho inserito tra l'altro se avete notato in quel quadro con una Billie Holiday giovane ventenne ho fatto questo collage con la foto di lei piccola era un riferimento anche alla vita durissima che lei ha affrontato fin da piccola una vita fatta anche di soprusi violenze prostituzione ma non voglio approfondire più di tanto questo aspetto era solo per farvi capire che la sua formazione avviene intorno ai 18 anni la scoprono mentre fa la sguattere in un bar insomma lei canta ogni tanto e la valorizzano la sua voce è unica tra parentesi è un artista che è diventata poi un riferimento per tutte le cantanti che ci sono state dopo di lei o per lo meno per la maggior parte e riesce a unire la bellezza della voce con l'intensità e l'emozione del blues anzi in realtà lei è una cantante jazz di blues ha fatto ben poco però per blues si intende anche uno stato d'animo il periodo in cui lei comincia ad emergere coincide anche con quello che ha appena accennato Magda che mi riferisco agli anni 1903 1920 e 1930 a una sorta di rinascita di orgoglio del popolo afroamericano di volersi riscattare da una situazione di razzismo segregazione e questo era dato proprio dalle arti cioè si confidava il fatto che l'arte avrebbe sarebbe stato un veicolo di riscatto e anche di messaggio di vulgare il più possibile nella società nella musica abbiamo il jazz c'erano di questo rinascimento facevano parte ai musicisti come Count Basie oppure se fai vedere la fotografia con Lester Young più avanti ecco la prossima grazie ecco qui vedete lei in compagnia di tre grandi jazzisti ecco anche Lester Young tra l'altro molto intimo e amico di di Billie Holiday fa parte di questa rinascita già che ci sono accenno a due artiste contemporanee a Billie Holiday che hanno fatto dell'arte appunto anche una forma didattica sono state entrambe molto per tutta la vita in pratica hanno sempre insegnato e hanno creato proprio una serie di situazioni non solo negli Stati Uniti si sono anche mosse sono state sia in Europa che ad Haiti mi ricordo c'era una fotografia e mi riferisco esattamente a due artiste una si chiama Augusta Savage ed è una scultrice riprende le sue radici si riappropria delle sue radici del suo popolo ma nello stesso tempo affina anche una sorta di di realismo di realismo della figura in cui però i soggetti sono afro afroamericani proprio recentemente nel 2017 le hanno dedicato una mostra a New York qui si vede proprio l'entrata della sala dell'Historical Museum di New York vedete che è una scultura che poi diventa estremamente realistica naturalistica c'è anche un'altra immagine il boxeur o pugilist e poi c'è il ritratto di un facciullo questa si vede malissimo ma l'avevo inserita perché c'erano dei collegamenti con Camille Crudel erano artisti artisti di grande qualità l'altra invece è una pittrice ecco la Lois Maylou Jones questa è la scultura ancora della Sauvage ecco questo è Lois Maylou Jones ad Haiti mentre sta facendo un corso di pittura in segna ci tengo a precisare che anche loro avevano già avevano ancora queste condizioni di restrizione come donne artiste nel senso che la Jones ad esempio aveva avuto una borsa di studio per andare a Parigi che poi le è stata rifiutata perché è donna di colore ecco la qualità grafica se puoi andare avanti c'è il ritratto di Giovanni Nero del 29 anche qui siamo nell'ambito realista ecco questa è un'altra precisazione che devo fare io ho secondato i miei gusti e quindi visto l'argomento che è veramente enorme dovete insomma perdonarmi se il mio percorso sarà parziale comunque fortunatamente segnato da una certa attenzione alle opere delle artiste che mi piacciono in poche parole ecco poi andare avanti ci sono altri due ritratti di fanciulle nella loro fanciulle di colore nella loro quotidianità ma la qualità pittorica è notevole denota anche una grande sensibilità interpretativa ecco ritorniamo e concludo con Billy Holiday Billy Holiday fa un gesto un atto nell'arte nella sua musica che sarà di rompente e diventerà anche un riferimento poi per le lotte contro il razzismo cioè esattamente nel 39 una donna di colore canta una canzone contro il razzismo strange strange fruits questi frutti strani ecco prima era stata indicata una fotografia si riferiscono proprio ai linciaggi e agli uomini di colore che venivano impiccati e c'è proprio una foto del 39 che riprende una di queste violenze non si vede più niente mi sembra si l'abbiamo vista prima adesso vediamo eccola la rivediamo in questo momento eccola è una foto molto forte si questa canzone segnerà anche un po' il destino della nostra Billy Holiday perché da quel momento in poi sarà perseguita dall'FBI e con i problemi dati dal suo vissuto dalla sua infanzia dalle sue ombre che la portano anche alla tossicodipendenza sarà come dire permetterà alla polizia di poterla più volte incriminare e anche arrestare comunque nel 39 dopo quella canzone per la prima volta una donna di colore viene fotografata messa sulla copertina del time ed è l'immagine successiva e questa è una grande rivoluzione diciamo eh già sì sì è una cosa che esatto un momento storico molto importante giusto uno sì sì si conclude comunque perché parliamo di una donna che è venuta a mancare presto ma si conclude proprio in un modo così simbolico anche cioè viene perseguita fino al punto che quando lei starà molto male ed è praticamente in stato comatoso viene portata all'ospedale e contemporaneamente arrestata e così finisce i suoi giorni Billy Holiday sì è vero ho proprio una vita difficile molto segnata e soprattutto segnata dalla dalla voce che canta la sua libertà visto è la voce però è quella rimane per fortuna esatto rimane per fortuna e quindi Bruno possiamo dire che dalla musica adesso andiamo al mondo della scultura dalla voce alle mani sì Magda scusa volevo giusto per far capire che Billy Holiday ha avuto poi un proseguio esattamente dieci anni dopo la canzone Strange Fruit del 39 dieci anni dopo la interpreterà un'altra donna che ha preso questo come dire ha fatto questa scelta di vita non solo una grande musicista interprete ma è stata anche femminista ha cominciato proprio a a fare una lotta strenua contro il razzismo e per i diritti del popolo afroamericano ed è Nina Simone anche lei ha fatto un'interpretazione grandiosa di quella canzone prima è apparso per un attimo anche il suo ritratto prego Magda eh sì è vero anche Nina Simone è apparsa nelle immagini che scorreva Mariella ma è proprio un caso quindi di dire che dalla voce Bruno passiamo alle mani mani che creano mani che plasmano la materia perché adesso lasciamo davvero la voce e ci infiliamo nel mondo della materia vera e propria lasciamo quindi canti di lotta e incontriamo un'altra grande eh artista che ha influenzato tantissimo la tua arte Bruno e sto parlando di eh Camille Clodelle eh siamo in Francia eh mille ottocento sessanta quattro mille novecento quarantatré ovviamente gli estremi ci servono per la collocazione temporale vive una vita breve ma intensa eh eh fragile ma assai determinata come potete vedere voi stessi osservando il ritratto di Camille realizzato appunto dal nostro Bruno eh proprio per l'occasione e anche il ritratto eh della Locandina è un ritratto che diventa testimonianza della bellezza e del talento all'interno della fragilità eh c'è chi lo esprime con la voce c'è chi lo esprime con con le mani e Claudel è infatti un'altra donna forte e libera Bruno che ha lasciato un segno indelebile nella storia della scultura novecentesca lo ha lasciato eh questo segno indelebile lo ha raccontato non solo attraverso le sue eh incredibili ed eccezionali dotri tecniche artistiche ma anche attraverso la sua difficile vita vi do una una curiosità pensate che sono stati due eh gli due grandi uomini gli amanti eh di Camille eh uno è il compositore eh Claude Debussy e l'altro è lo scultore che è stato anche suo maestro eh Auguste Rodin eh 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 sentite che cosa dice Rodin eh di Camille Claudel eh e poi ti passo immediatamente la parola eh Bruno proprio perché da Camille poi tu eh no ci racconterai altre donne che hanno influenzato la tua arte Rodin dice eh di Camille ha una natura profondamente personale che attira per la grazia e respinge per il temperamento selvaggio cosa ci dici di Camille Bruno? ecco io passerei subito alla fotografia da cui ho tratto poi il disegno ecco eh già la fotografia fatta Camille da un fotografo assunto da Tarodin a vent'anni quando la conosce eh esprime perfettamente quello che hai appena eh letto Camille a dodici anni eh dimostra già un grande talento nel istintivamente in modo così assolutamente istintivo nel modellare con la creta non è per niente capita dalla dalla sua famiglia tranne che dal padre la la madre non la capisce perché ehm si aspetta quello che ci si aspetta dalle donne di quel tempo cioè che che si sposi che diventi una buona madre una buona moglie no lei è eh completamente ha una mente uno spirito come hai detto completamente libero fiero già da giovane qui ecco se fermate un attimo qui eh nell'atelier che a Parigi divideva con una sua coetanea inglese eh entrambe lei si chiama Jessie Lipson e entrambe entreranno poi nell'atelier di di Rodin Rodin le scopre in questa accademia per sole donne ecco dovete sapere anche questo che nel 1800 alla fine dell'800 le accademie normali classiche erano precluse alle donne non potevano disegnare i nudi e allora avevano creato queste scuole per sole donne Rodin rimane subito colpito dal talento sia di Camille Codel ma anche della sua amica e quindi le fa entrare nel suo laboratorio nel suo atelier poi succede quello che hai detto Camille diventa non solo la sua allieva ma anche la sua musa la sua amante ma c'è un rapporto ecco totale sono legati dalla stessa passione per l'arte dalla stessa modo di di viverla di interpretarla a livello plastico spesso ci sono interventi sulle opere di 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 Rodin eseguiti da Camille Codel qui abbiamo un assemblaggio fatto da da Rodin è la maschera di Camille composta accanto un frammento di un gruppo scultoreo che si chiama i borghesi di Calais le bourgeois de Calais è simbolico può essere una carezza può essere un qualcosa che si avvicina a questo volto dolcissimo e al tempo stesso fiero la prossima scultura invece è un'opera di Camille Crudel ed è la vals questa opera esprime molto bene come anche le successive questa sua capacità di rendere il trasporto l'intimità la forza che unisce due persone che si amano questo invece purtroppo è più tarda e la stessa Crudel rappresenta simbolicamente l'allontanamento o la decisione di questo suo grande amore di Rodin che alla fine dopo 13 anni di legame perché comunque lei risultava sempre l'amante Rodin è rimasto sempre fidanzato ufficialmente con un'altra persona e alla fine si vede lei si autoritrae mentre quest'uomo maturo se ne va con un'altra persona mentre la vals la teneva sul proprio pianoforte ecco questo è un altro punto di osservazione sempre della scultura vista precedentemente la vals la teneva sul pianoforte De Bussi ma è stato un incontro non si sa bene fino a che punto così profondo certamente erano legati De Bussi era innamorato di Camille ma quando Rodin tornò da un tour che aveva fatto era un uomo un artista di grande successo un artista con committenze impegni e in un periodo di assenza quando è tornato si è ripreso in mano la situazione e sono andati avanti per 13 anni dicevo poi alla fine Camille Codella ha capito che non c'era futuro e tutta la dedizione che aveva fatto sì che lei resistesse tutto questo tempo crolla e decide lei di lasciare Rodin decidere di lasciare Rodin vuol dire chiudere col mondo dell'arte perché se lei era considerata in quell'ambiente era grazie alla figura di Rodin come donna ritorna in una sorta di chiusura totale continua e resiste nel continuare a scolpire in solitudine per altri nove anni ma avviene anche qualcosa d'altro se puoi tornare indietro poi lo spiego meglio questa fotografia le cose che crea poi le distrugge insomma subentra probabilmente una forma anche depressiva tutto questo lei continua a fare a vivere a Parigi grazie al padre cioè la protezione l'ha sempre avuta dal padre ma nel momento in cui il padre viene a mancare la madre d'accordo perché che co-firmatari siano se sono sia la madre che l'amato fratello Paul Clodell poeta cattolico sicuramente qualcuno lo conosce ecco Paul Clodell firmano perché venga internata in un manicomio esattamente nove giorni dopo la morte il padre Camil Clodell viene chiusa in un manicomio e ci rimarrà per 30 anni fino alla morte la madre non rimanderà sempre indietro tutte le lettere che in tutti quegli anni lei scrive proprio per questo si ha un fitto carteggio si hanno ancora tutte le lettere di Camil Clodell perché erano rimaste nella clinica dove lei era stata messa tenuta qui ecco la vediamo di nuovo con questa sua amica inglese che lei andava a trovarla nel manicomio saltuariamente durante quei 30 anni è sempre andata a trovarla e questa è l'ultima fotografia di lei perché è del 1943 anno in cui lei morì ce n'è un'altra ancora più ecco questa è Camil Clodell alla fine della sua vita ecco il paradosso vuole che nel 2017 nel centenario della morte di Rodin il governo francese finalmente si è ricordato di Camil Clodell e ha creato questo bellissimo museo a sud di di Parigi dove è contenuto un più grande corpus di sculture di Camil Clodell dopo Camil Clodell mi piaceva l'idea di presentare anche una donna che è una donna artista che secondo me raccoglie le caratteristiche di lei e di Kate Colvitz ma ne parlerò dopo adesso passiamo a Kate Colvitz che è Kate Colvitz che è una coetanea di Clodell tedesca anche anche lei un talento naturale fin da giovanissima eccola qua Kate Colvitz questo è un ritratto che ho fatto un ritratto Bruno vero? per l'occasione ma sì dai altrimenti cerco di compensare in questo modo con i disegni dai allora stavo dicendo guardiamo la fotografia invece di una Kate Colvitz ma certo che le immagini sono un po' piccole non importa va bene ecco grazie così si vede meglio ecco Kate Colvitz ha una formazione rigorosa e dei maestri eccessi come Klinger che anzi è lo stesso Klinger Max Klinger che scultore incisore che osservando i suoi lavori la consiglia le consiglia di di seguire più l'arte incisoria cosa che lei farà e sarà una giusta intuizione andiamo oltre c'è un suo autoritratto già un po' più tardo però giusto per avere un'idea di come ecco questa è un'acquaforte un autoritratto con questa mano che pone in ombra metà del viso sì quando mi avete proposto questo incontro le prime artiste che mi sono venute in mente sono queste proprio perché e questo mi sono reso conto a distanza di tempo ad esempio una Kat Kolvitz io l'avevo subito mi aveva subito colpito quando ero poco più che ventenne e credo che nell'evolversi nel continuare poi la propria esperienza la propria vita queste questi artisti la loro la loro arte ti rimane dentro ti rimane dentro e poi sfocia come hai fatto notare tu ad esempio nel nel gruppo di di minatori che ho dipinto cioè io faccio sempre l'esempio della 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 catena insomma ogni artista in qualche modo è legato con il passato siamo degli anelli di una catena ecco e quindi qualcosa del passato e l'ho riscontrato anche in artiste donne come anche uomini contemporanei c'è sempre un confronto l'unica differenza è che noi siamo persone artisti nel nostro tempo e quindi risentiamo e ci mettiamo quello che il nostro tempo ci trasmette la realtà la società ad oggi andiamo avanti c'è un un'incisione del 1897 è una madre sul sulla 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 culla del figlio del figlio malato ecco è un anno importante perché coincide con l'anno in cui eh Kate Colby farà una serie di fogli che si intitola la rivolta dei tessitori comunque potete notare la qualità del segno l'intensità ecco c'è sempre una forte partecipazione di di sentimento di emotiva nel nel suo nel suo lavoro e c'è anche forte un messaggio sociale ecco Kate Colby si sposerà con con Carl che è un medico socialista e che per scelta a Berlino farà il medico condotto proprio per aiutare eh la popolazione più più debole insomma più povera in questa casa quindi eh la casa è frequentata da da molte di queste persone che diventano al tempo stesso soggetto e suggestioni per per l'opera di Kate Colby e poi c'è l'aspetto anche diciamolo pure eh di di lotta sociale che che traspare appunto guardiamo il foglio del ciclo la rivolta dei tessitori ecco è uno dei dei fogli eseguiti ehm narra di una di una rivolta mh avvenuta nel 1842 nella Sederesia contro eh gli imprenditori che avevano abbassato ulteriormente il salario e e quindi creando un po' le premesse di di quello che sarebbe poi stato il 1848 vedete delle donne che stanno raccogliendo delle pietre dal selciato e le passano agli uomini per mentre protestano mh è una rivolta che finirà drammaticamente nel sangue e infatti eh la l'incisione successiva di cui ha preso esempio anche Magda la prigionia di questi dei tessitori tutto è nato dalla suggestione di una prima teatrale che rappresentava appunto questa storia realmente accaduta che Colvitz la vede e impiega diversi anni mi pare quattro anni prima di concludere il lavoro comunque la qualità delle lastre delle stampe suscita un forte impatto anche in questo caso doveva essere premiata una medaglia d'oro di un premio che si dava in Germania ma poi è stato negato perché donna ci tengo a ricordare questi momenti perché la condizione femminile fino a praticamente fino al 1970 quando poi col femminismo succede qualcosa di nuovo è quasi sempre così è sempre la stessa anche durante le avanguardie artistiche le cosiddette avanguardie artistiche del novecento ma ne parlerò dopo ecco Kette Colvitz viaggia viaggia viene premiata vince anche una borsa di studio si può dire sta un anno a Firenze va per due volte a Parigi e questa è una cosa suggestiva almeno per me a Parigi rimane fortemente colpita dalla perché ha l'occasione di andare a visitare l'atelier di Rodin e siamo nel 1904 insomma voglio dire chi lo sa forse aveva anche incrociato Camille Crudel è una cosa per me che mi fa pensare ecco è anche il momento in cui Kette Colvitz sente il bisogno di tradurre plasticamente la sua la sua capacità artistica e cioè non solo l'incisione comincia a frequentare un'accademia sempre per sole donne a Parigi e comincia a scolpire è molto influenzata anche dalla scultura di Barlack un suo amico compagno scultore tedesco qui ho voluto rappresentare cioè ho voluto farvi vedere forse la scultura più rappresentativa di Kette Colvitz ed è si intitola I genitori è l'omaggio scultoreo ai caduti della prima guerra mondiale tenete conto che Kette Colvitz perse il figlio il secondo genito il più giovane nella prima guerra mondiale e rappresenta proprio lei poi quando prosegue si vede anche l'altra figura sono il padre ecco che ha le fattezze ed è il ritratto di Karl Colvitz nel suo marito e lei raccolta in questo dolore infinito forse loro sono levate un po' emotivo in queste sculture sì ecco non so se hai notato ma c'è costante tu avevi fatto quel riferimento a Van Gogh ma senza come dire lo vorrei semplificare ma è molto forte in queste donne la parte della loro biografia della loro vita con quello che stanno realizzando più in Camille Clodelle e in Kat Corvitz c'è anche questo aspetto di rappresentazione di denuncia di sopplusi ad esempio nella prossima tavola c'è una silografia ecco negli ultimi anni si dedicherà anche che è alla la xilografia che è una tecnica incisoria in pratica si si leva sul si incide su tavole di legno di frutto ed è proprio nell'animo nella tradizione tedesca c'è un grande amore per la grafica in Germania e la xilografia è una di quelle tecniche più dure da un certo punto di vista ma anche più di impatto e Bruno però devo dire una cosa se me lo permetti c'è una cosa che dovete assolutamente sapere a proposito di questa artista Bruno poco più che ventenne acquista una sua incisione giusto Bruno mette da parte i soldi per acquistare un'incisione di Chete Colviz e un'altra cosa che vi voglio dire è una curiosità che ci fa capire quanto di Chete Colviz c'è nel percorso artistico di Zoppetti Chete Colviz Bruno la scopre al liceo artistico se non sbaglio ed è grazie a alcuni tuoi docenti professori che ti portano a vedere le mostre che ti suggeriscono libri letture eccetera giusto Bruno perché il liceo artistico per te è stata una grande scuola di vita più che di tecnica diciamo a differenza dell'accademia dove tutto sommato diciamo di sperimentazioni ne sono avvenute poche però Chete Colviz l'hai scoperta proprio grazie agli anni del liceo artistico giusto? Sì sì indubbiamente indubbiamente ma non solo Chete Colviz anche tanti altri artisti solo che in questo caso stiamo parlando delle donne artiste e vorrei concludere riguardo Chete Colviz che la prima monografia e grande mostra monografia in italiano su Chete Colviz è stata fatta proprio da Matashi vedete il catalogo il quale è riuscito a a farsi prestare l'intera raccolta Newman che è una delle raccolte complete grafico incisorie di Chete Colviz ed è stata esposta nel 1993 io ho fatto la mostra l'anno dopo quindi fare la mostra dopo Chete Colviz è stata un altro motivo per me ecco ecco stavo dicendo che queste due artiste io le vedo un po' nella figura cioè rientrano in una persona in un artista che è di origine lituana ma è naturalizzata in Italia che è l'Antonietta Raffa il Maffai l'Antonietta Raffa il Maffai a nove anni con la madre deve andarsene dalla Lituania per un program che c'era stato e erano stati uccisi una ventina di bambini cose terribili chiaramente appoggiate dalla polizia zarista ecco emigrano a Londra e qui riesce a frequentando la Royal Academy si si diploma in pianoforte ed è anche una brava pianista la vita è dura quindi vive facendo lezioni di piano di solfeggio ma intorno all'età dei intorno ai 30 anni sente il bisogno di fare un viaggio di di capire che cosa vuole veramente e parte va a Parigi da Parigi con l'intenzione di raggiungere la Grecia si ferma a Roma e a Roma succede che la città le piace moltissimo ma soprattutto conosce Maffai Mario Maffai pittore artista dalla loro unione nasceranno queste tre figlie che sono e che vedete qua già in età grande ma ne parlo perché fan parte poi di un'opera che ha che ha realizzato l'Antonietta Raffari Maffai beh una è la più anziana diciamo così è la Miriam Maffai la giornalista scrittrice per parentesi ricordo il proposito di donne il suo libro Pane Nero che quando pubblicò lo lessi e raccontava diverse diversi vissuti di donne durante dal 1940 durante la seconda guerra mondiale donne italiane ecco qui c'è anche Giulia che scriverà anche un libro di cui avete visto la copertina prima ed è l'unica che è vivente la Maffai dico Giulia perché ha fatto la donazione di questo gruppo scultorio che vedete si intitola le tre sorelle ed è del 36 dove l'Antonietta Raffaele Maffai ha rappresentato le tre figlie c'è la figlia maggiore la Miriam Maffai che sta leggendo un libro e le altre due bambine la stanno ascoltando questo gruppo scultorio adesso è stato donato dalla Giulia Maffai alla comunità ebraica di Roma siamo nel 36 nel 38 ci sarebbero state le leggi razziali in Italia e essendo la Maffai cioè la Raffaele Maffai di origine il papà era rabbino quindi e anche Mario Maffai era ebreo si sono dovuti rifugiare a Genova sono stati ospiti e aiutati dallo Iesi che forse il nome vi ricorda una famosa collezione Iesi e Jucca la loro il loro periodo romano quando stanno a Roma prima di quegli anni cupi vivono una dimensione comunitaria artistica molto molto intensa hanno frequentazioni con Scipione con quella che sarà chiamata da Londi la scuola romana di cui fanno parte anche loro volevo far notare una cosa nel quando è che è stato nell'82 c'è stata una grande mostra a Milano sugli anni 30 io ho preso il catalogo lo faccio vedere giusto per le dimensioni ecco e proprio per il discorso della presenza delle donne anche nelle vanguardie comunque in quegli anni in Italia quando sono andato a guardare le schede degli artisti citati su 25 pagine di schede ho contato 5 donne artiste tra cui la Antonietta Raffaella un'altra bella scultura ecco certo questa che è Giulia questo è il ritratto della figlia Giulia e la successiva si intitola Genesi un'altra cosa che trovo che lega un po' tutte queste artiste questa attenzione questa concentrazione nel nell'interesse del corpo femminile e anche nella sua simbologia oltre che nelle forme particolarmente evocative anche un certo tipo di scultura più scultura più arcaica ma a me come dire hanno lasciato una forte impressione e trovo dei legami tra tutte loro la Camille Crudella a lei e alle future artiste che analizzeremo grazie Bruno abbiamo incontrato tre donne importanti quindi quindi lasciamo adesso si lasciamo lasciamole 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 lasciamo Camille che è te Antonietta le nate nella fangisiecle giusto un periodo importantissimo ricco di fermenti si ritroveranno nelle fibrillazioni dell'arte del novecento giusto infatti incontriamo altre artiste della generazione degli anni quaranta del novecento magari andiamo anche negli Stati Uniti tra l'altro meta di alcuni tuoi viaggi e conosciamo in questa ultima fase dei nostri dialoghi perché si tratta di dialoghi Anna Mendieta Francesca Woodman Marlene Dumas e che sono solo alcune delle tante tantissime donne che ti hanno influenzato diciamo ma la cosa che vorrei dire per introdurre questi nuovi incontri è che queste donne non trattano solo la pittura ma incontreremo anche la fotografia la performance dove il corpo e ci avviciniamo anche all'argomento importante di questa seconda parte affiora prepotentemente ebbene sì ad un certo punto nel novecento il corpo femminile diviene protagonista nella storia dell'arte e non solo come oggetto da rappresentare ma come vero e proprio strumento che non è più in scena Bruno semplicemente per apparire ma è in scena per agire per fare arte diventa veramente protagonista il concetto è provocatorio come vuole la prassi novecentesca e provocatorio ma assolutamente necessario direi per rivoluzionare il mondo dell'arte femminile e non solo il mondo femminile per rivoluzionare proprio il concetto artistico di questi anni e quindi adesso tu ci racconti qualcosa di queste donne del novecento giusto? certo anzi io devo dire che ho scoperto prima della mandietta fatemi fare questa considerazione io ho scoperto le avanguardie artistiche rappresentate solo dalle donne grazie a Lea Vergine che aveva fatto nell'ottanta una mostra molto bella forse anche la prima mostra su le donne nelle avanguardie del novecento si intitolava appunto l'altra metà del novecento ed era sulle pittrici scultrici dei movimenti delle avanguardie artistiche ecco perché dico questo? perché facevo l'accademia ho visto queste cose siamo nell'ottanta e siamo alla fine di un percorso cioè gli anni settanta in cui veramente il femminismo è stato fondamentale nei primi anni settanta a smuovere un po' le acque anche nell'ambito artistico e soprattutto le donne hanno cominciato a appropriarsi di spazi giustamente perché si è riscontrato anche si vedeva nella mostra della Vergine che le stesse avanguardie artistiche con questo termine intendo gli artisti stessi uomini avevano una chiusura nei riguardi delle donne artiste e avevo beh ce ne sono tanti di nomi avevo pensato a Cindy Sherman per l'uso del corpo a Francesca Woodman nella fotografia che mi ha colpito tantissimo perché ha avuto una vita breve ma le sue fotografie sono tutte incentrate sul suo corpo ma in un modo assolutamente affascinante di grande qualità e allora ho optato per Anna Mendieta ecco questa è Francesca Woodman forse ho anche inserito una fotografia proprio così andiamo di corso ah no no questa invece Anna Mendieta ecco ho pensato di parlare di questa artista cubana di origini cubane ma che però era stata prelevata lei e la sorella in questa operazione americana anticastrista che aveva come progetto di portare via il più possibile bambini da Cuba non vorrei sbagliarmi ma si parla di 10.000 bambini tra cui c'era lei che aveva 13 anni e la sorella dico questo perché poi per diversi anni viverà in questi campi di profughi insomma si sentirà senza una terra senza un riferimento finché riesce ad arrivare nell'Aiova dove frequenta gli studi d'arte e nel nel 70 decide di di non utilizzare più la pittura come linguaggio ma la le performance cioè usare il proprio corpo soprattutto per denunciare violenze ha delle intuizioni interessanti come questa dell'utilizzo di un vetro dove lei prime il proprio corpo il proprio viso creando queste deformazioni che turbano ecco una cosa che spesso si riscontra nell'arte di queste donne ma è proprio per per denunciare appunto le violenze e quindi creare anche delle immagini forti che possono disturbare in questo si intitola glass ed era una serie di fotografie poi faceva anche delle performance oppure si riferiva e evocava la ah no questa è un'altra opera un po' più tarda che della fine degli anni 70 che si intitola Siluetas e in pratica evoca gli elementi sì sempre con questa forma femminile che dovrebbe rappresentare il suo corpo ma c'è anche un ecco c'è anche un elemento costante che è quello della terra dell'origine e in questo caso anch'io mi permetto perché mi ha colpito molto e anche perché ecco qui addirittura la forma diventa ancora più evocativa una sua citazione che nella sintesi esprime benissimo il perché aveva bisogno di utilizzare questi elementi la terra l'acqua il fuoco diceva proprio questo Mendieta io lavoro con la terra faccio sculture nel paesaggio visto che non ho una madre patria sento il bisogno di avvicinare la terra e tornare al suo grembo utilizzo la terra come tela e la mia anima come strumento ecco torniamo ancora alla dea terra la dea madre alle origini come avevo detto citando all'inizio quella scultura del Neolitico andiamo stiamo sforando perché volevo parlare di un altro paio di artiste una vivente è Joan Semmel che è una scrittrice artista che ha una certa età femminista che ha fatto un grande lavoro anche anche ella sul suo corpo dando se puoi far vedere le due immagini della Semmel per favore eccola qui questa però è più tarda questo è uno dei lavori del 2000 ecco qui era per far vedere come lavorava lavora con la fotografia sul suo corpo da dei tagli particolari in cui il volto è praticamente inesistente ma il corpo stesso ecco adesso puoi far vedere la traduzione pittorica questo è lo studio iniziale ecco un'immagine piccola il corpo stesso diventa quasi un paesaggio un qualcosa e poi c'è un'altra cosa da dire le dimensioni dei suoi quadri sono tele di 3 4 metri e quindi sono avvolgenti creano un impatto fortissimo se pensate appunto a questa tipologia di particolari e l'altra invece è un artista più giovane perché la Semmel è del 32 è la Marlène Dumas che è un artista sudafricana che non si vede arriva arriva eccola eccola qua eccola Marlène ecco Marlène attorniata dai suoi grandi acquarelli anche lei è un artista che volutamente per certe scelte io non mi posso soffermare troppo perché lo stesso viene anche con la Semmel fanno delle tematiche delle scelte piuttosto forti non so la Semmel aveva documentato negli anni settanta con la come dire l'adesione della coppia una serie di rapporti sessuali che poi lei traduceva in quadri con colori molto violenti la stessa cosa la fa la Dumas con degli acquarelli piuttosto spinti che io non ho messo ma ho inserito comunque delle immagini come questa serie di teste femminili dove spesso predilige anche ritratti famosi ma anch'essi controversi abbiamo citato prima ecco questo è già uno dei suoi lavori un pochettino erotici no dicevo ecco controversi perché ha fatto ritratti di Pasolini anche della stessa Amy Winehouse e si confronta a questo aspetto il materiale di cui lei fa uso sono immagini fotografiche prese da riviste ma si confronta anche con gli antichi se vai avanti c'è un eh sì questa è terribile è la serie dei suicidi in cui c'è ecco questa sarebbe non l'ho messa ma c'è la fotografia nell'obitorio di Marilyn Moro e lei ha fatto tutta una serie di studi di questa immagine terribile ecco qua si confronta con Holbein è esplicito il riferimento proprio da pre da Holbein nella figura sottostante mentre quella sopra è una fotografia che è stata volgarmente rubata da un tabloid inglese a Michael Jackson quando stava nelle queste in questa camera iperbarica sapete che aveva tutte queste fissazioni su sulla salute e quindi c'è questo questo aspetto oppure situazioni legate alla politica qui è la moglie di Lumumba che gira a lutto dopo l'assassinio di suo marito nel 61 Lumumba è stato un ministro eletto democraticamente in Congo ma che dopo pochi mesi è stato eliminato perché evidentemente dà fastidio per gli affari i malaffari di quel paese ecco questa è la traduzione pittorica della nostra Marlène Dumas a questo punto ho pensato una cosa mi sono permesso visto che abbiamo parlato di queste artiste viventi ma lontane oppure che non ci sono più invece di coinvolgere un artista stasera un artista donna di cui lavoro stimo molto da sempre lei è di Treviso però è stata adottata da Brescia perché penso che sia vent'anni ormai che vive a Brescia ed è Dania Zanotto ho pensato di coinvolgerla perché penso che le sue riflessioni su come vive la realtà artistica una donna di oggi siano molto più pregnanti di tutto quello che ho detto io fino adesso prego Dania Zanotto ciao ciao grazie grazie Bruno grazie a tutti quanti anche per questo invito così adesso io mi tolgo un po' di sassolini dalle scarpe no scherzo allora quando Bruno mi ha invitato per questo intervento ho pensato di articolare il discorso e giuro che sarò brevissima in 5 punti focali che sono 5 punti focali che ritengo importanti nel descrivere il processo creativo per un percorso artistico femminile la creatività come diceva prima Bruno è stato o quella che chiamiamo creatività o pensiero divergente sono stati da sempre appannaggio del mondo maschile questo perché sia l'ambiente sociale e culturale adesso smorzato prima addirittura impediva la possibilità dello sviluppo di attività creative femminili e possiamo fare due esempi in passato le donne dovevano utilizzare degli pseudonimi per essere credibili pseudonimi maschili ora invece se noi io insegno liceo artistico assieme a Bruno e diciamo che la popolazione studentesca per l'ottanta al novanta per cento è femminile in accademia la stessa cosa di fatto però gli artisti maschi sono quelli che sono più presenti nell'ambito delle gallerie della comunicazione dell'arte detto questo però ci sono le neuroscienze che vengono a nostro favore cioè il cervello femminile lavora in maniera molto diversa rispetto a quello maschile l'uomo utilizza soprattutto l'emisfero sinistro l'emisfero sinistro è anche detto il cervello dell'ingegnere che è specializzato nei processi linguistici però diciamo che l'uomo utilizza soprattutto quest'area cioè la parte del cervello sinistro la donna invece la parte del linguaggio ce l'ha sicuramente nella parte del cervello sinistro ma il cervello diciamo che è emergente che è più importante è quello destro che viene anche dichiarato come cervello del poeta perché è quello che si occupa dell'elaborazione visiva e della percezione globale quindi se prima abbiamo visto che la creatività era generalmente appannaggio maschile di fatto le neuroscienze ci dicono il contrario proprio perché la donna ha i lobby frontali che sono più voluminosi e i lobby frontali sono quelli della sede della memoria a breve termine del pianificare ma anche del sistema limbico che è legato sostanzialmente all'emotività che è anche la nostra forza ma è anche il nostro tallone d'Achille quindi abbiamo visto prima il concetto di creatività poi invece le differenze biologiche del cervello e poi però si mette di mezzo un altro problema nel percorso del creativo della donna artista cioè il modello sociale e psicologico perché ovviamente è importante il luogo e quelle che vengono definite come sistema di credenza in cui il soggetto creativo si forma se il soggetto femminile si forma in un ambiente dove ci sono degli stereotipi ovviamente dato che la creatività è una qualità evolutiva la qualità evolutiva viene smorzata ok c'è un'altra cosa che secondo me è fondamentale di questo processo evolutivo nel momento della maturità di un artista donna di questo processo evolutivo l'artista viene elevato verso forse è una cosa molto come si può dire eccessiva può essere percepita così quello che dirò adesso però io la vivo come una forte elevazione verso la spiritualità questa spiritualità poi che viene sostanzialmente mediata si espleta attraverso un oggetto che sia scultura che sia pittura che sia installazione c'è un'altra parte che a me interessa molto del cervello femminile che ha più aree specializzate ma l'area specializzata che nell'ambito artistico ci serve di più è quella dell'empatia cos'è l'empatia sostanzialmente la capacità di metterci da un punto di vista diverso rispetto al nostro ed è questo un punto focale della creatività perché è un pilastro perché l'empatia è un pilastro per la creatività perché la creatività è un processo preciso ma è anche un processo che rompe un equilibrio ma non lo rompe per frantumarlo lo rompe per creare un nuovo equilibrio durante il mio percorso da artista proprio perché mi interessava questa parte dell'equilibrio mi sono imbattuta in un libro che adesso vi faccio vedere che si chiama Le idee dentro la donna è di una psicologa di fede junghiana ma che ha studiato gli archetipi della mitologia greca ovviamente e romana ma li ha spogliati della pregnanza patriarcale che avevano per riportarci invece un femminile nel quale tutte possiamo conoscerci ed è proprio la presenza più potente di una dea piuttosto che un'altra a farci stare in disequilibrio faccio un esempio la dea Atena la dea della guerra la dea della sorrellanza se c'è una forte pregnanza in questo in questo caso la donna è più portata a lavorare in gineceo quindi con delle donne però le manca la parte sostanzialmente maschile ok quindi è importante sempre che ci sia l'equilibrio è un libro che io suggerisco prima di tutto perché è molto divertente c'è anche la versione maschile per gli astanti maschi però ci fa comprendere quanto sia importante perché è nata la mitologia perché ci serve come archetipo per riconoscerci un'altra cosa di cui volevo volevo parlare questo riguarda di più la mia esperienza e di quanto a volte l'universo femminile venga frainteso oppure si giudichi con pregiudizio oppure a volte viene esaltato anche troppo oppure viene demolito alla donna artista secondo me è fondamentale suggerire di avere come mi aveva suggerito una mia vecchia curatrice quando studiavo in accademia a Venezia analizzare sempre tutto con molta lucidità e obiettività intorno agli anni 2000 e per almeno un decennio come giovane artista ero stata invitata a più mostre al femminile questa cosa mi faceva sorridere io però avevo molta voglia di lavorare e di esporre quindi ho sempre partecipato a tutte queste collettive al femminile però mi facevano un po' ridere e un po' arrabbiare perché mi dava come l'impressione di far parte delle quote rosa o di quell'animale in estinzione che deve essere tutelato oppure ma si dai facciamolo uscire dal recinto che è tanto divertente vedere scorazzare delle persone vestite magari in maniera un po' estrosa e divertenti per le calli veneziane dall'altra parte però con l'età matura mi sono resa conto di un'altra cosa cioè che erano gli anni in cui ci veniva proposto un modello del femminile completamente aberrante che era il modello che era diciamo il modello femminile delle passerelle e cioè delle donne anoressiche negli anni 90 le donne erano le icone del femminile erano le modelle quindi ci ricordiamo di Cindy Crawford Naomi Campbell ed erano quindi tutte queste donne che avevano le curve diciamo al posto giusto dagli anni 2000 in poi nasce un modello del femminile che è come dire confinato in qualche maniera per cui il mondo dell'arte si era ribellato facendo delle mostre collettive al femminile però ragionando su queste cose proprio in questi giorni mi sono imbattuta in una bellissima tesi di una studentessa di Brera la dottoressa Veronica Grazioli che parla proprio di questa di questa cosa cioè della teoria della massa critica e qui mi permetto di citare questa cosa cos'è la teoria della massa critica? innanzitutto è una teoria nata attorno al 77 ma è la concessione puramente formale per dare una parvenza di equanimità cioè esempio semplice sono un imprenditore e quindi nella mia azienda assumo delle donne o assumo una minoranza ora mi rivolgo soprattutto al pubblico maschile è vero che dei grossi passi sono stati fatti c'è una bellissima canzone di Gaber che tutti conosciamo che è libertà e partecipazione però di fatto la partecipazione non vuol dire coinvolgimento e secondo me il passo ulteriore che deve essere fatto nel mondo dell'arte in generale nella società ma adesso stiamo parlando del mondo dell'arte è proprio questo cioè il coinvolgimento c'è un bellissimo passo sempre di questa di questa tesi in cui mi sono completamente ritrovata che dice così cioè l'artista che agisce onestamente è l'artista anche che è carnalmente coinvolto cosa vuol dire carnalmente coinvolto vuol dire che è in grado di entrare in empatia prima di tutto col proprio lavoro con il contenuto e con i suoi osservatori ha un atteggiamento di umiltà si prefigge di conoscere in questo suo percorso e in quel momento è anche vulnerabile questo è essere completamente coinvolto nel lavoro e secondo me la donna che si occupa di arte è in grado facilmente di trovarsi in questa situazione però questa situazione è anche il nostro tallone d'Achille cioè l'emotività l'eccessiva empatia perché a volte ci fa bloccare osservando o essendo troppo coinvolte in quello che facciamo quindi perdendo la lucidità perciò un'altra cosa che secondo me è fondamentale in questo processo della creatività è che per arrivare al punto focale del nostro contenuto artistico è che non possiamo fermarci alla semplice empatia perché se no manchiamo di raccontare la giustizia sociale che è un punto fondamentale di cui l'arte contemporanea adesso si deve occupare assolutamente perché il periodo della provocazione che è nato prima con le avanguardie all'inizio del novecento poi come diceva Bruno prima negli anni settanta adesso ce lo dobbiamo togliere un po' di mezzo per ragionare invece su altre tematiche quindi non solo l'empatia per parlare anche della giustizia sociale non solo l'autocensura perché non ci permette di essere lucide in un giudizio etico non solo la spettacolarizzazione perché quante artiste usano il proprio corpo il proprio giovane corpo perché c'è un ritorno anche nel mercato dell'arte questo ci impedisce di avere un'inclusione reale c'è una bellissima frase che dice Bergonzoni in uno spettacolo e dice ma dobbiamo vedere la morte per capire la morte cioè la realtà già ci sbatte di fronte tutta la sua tragicità no? l'artista quindi non può fermarsi a narrare una situazione la deve avvocare le donne artiste non possono permettersi soprattutto in questo periodo storico di essere delle autrici ma devono essere delle iniziatrici concludo dicendo questa cosa che spero non risulti banale però io penso che l'arte sia un grande gesto di generosità un grande atto di generosità perché in quel momento tu sei davvero vulnerabile ti sei messo in gioco sotto tutti i punti di vista però hai bisogno di donare quella cosa c'è una una frase che io ripeto molto spesso quando vengo invitata alle conferenze e anche ai miei studenti che è questa cioè l'arte ha il potere di mettere in connessione più mondi allora dico alle donne artiste che dato che abbiamo il cervello preposto per fare tutto ciò adesso chiudo e sembro magari una femminista infatti lo sono usiamolo cioè usiamo questa nostra capacità e anche questa nostra bellezza nel fare forse sono state troppo stringate però ho visto che sono le 10 e 15 quindi io concluderei così e spero di essere stata un po' chiara grazie Dania grazie siamo arrivati alla conclusione Mariella allora io non devo soltanto lodare questa conduzione avvincente questa partecipazione di Bruno la partecipazione di Roberta la partecipazione di Dania che ha chiuso in modo egregio questo intervento portandoci proprio la voce delle donne della donna artista che è fondamentale perché ci ha inserito in questo in questa riflessione proprio dell'artista donna e utilizzando sia la psicologia sia la filosofia sia anche l'esistere come donna per cui veramente ti ringrazio ecco i pannelli le immagini che avete visto durante l'intervento di Dania sono le sue installazioni le sue opere perché appunto lavora come artista e anche come docente allora l'unico intervento che c'è stasera perché ci avete lasciato senza parole si può dire è un intervento di Boris che è arrivato Boris Savoldelli che è un amico di Bruno che ci ha accompagnato in una delle immagini questa sera in una sua iniziativa una lode a Magda grazie a tutti i relatori per la bellissima serata e poi Carlo Medici bell'intervento insomma tutte delle lodi meravigliose di domande non ce ne sono perché ci avete proprio raccontato le donne artiste partendo dal 1800 dalla metà dell'800 fino ai giorni nostri con Dania come rappresentante delle donne di adesso e Bruno alla voce maschile che comunque ci ha dato una bellissima immagine di un uomo che vede le donne dal punto di vista delle donne e questo è veramente una bella cosa insomma diciamocelo per cui chiuderei la serata se ci fossero delle domande ulteriori ma direi che di un uomo e Grazie.